Signor Italia sta portando avanti il progetto SignorCare, con l'apertura di studi medici destinati a fornire agli over 60 degli screen diagnostici di massa in diversi ambiti per monitorarne lo stato di salute e per intercettare le patologie sommerse. Cosa ne pensa? Un'iniziativa assolutamente lodevole perché questo mette nella condizione il nostro cittadino di poter fare uno screening e mappare un momento il suo stato di salute perché noi abbiamo delle stime in Italia, sappiamo e continuiamo a dire che circa il 30% dei cittadini italiani soffrono di una patologia cronica, dal monopatologico, quindi chi ha solo il diabete o ha solo l'ipertensione, al cittadino con due o tre patologie croniche. Il problema è che molto spesso, come abbiamo sentito anche dai farmacisti, queste patologie vengono intercettate quasi casualmente, quindi in occasione di un ricovero o di una prestazione particolare si scopre un valore sballato piuttosto che un parametro sbagliato. Questo comporta il fatto che è intanto poi difficile risalire quando è iniziato questo problema e le ricadute in termini anche di qualità possono essere diverse perché il diabetico a cui si scopre e viene diagnosticata la patologia con alcuni anni di ritardo, sappiamo bene che i livelli di glicemia alta nel sangue comportano problemi di neuropatie che possono già essere presenti nel momento in cui viene fatta la diagnosi. Quindi intercettare prima, in qualche modo far emergere il sommerso, aiuta poi ad approcciarsi con stili di vita corretti e appropriati e quindi a incamminare e incanalare il cittadino verso un percorso anche di autocura importante. L'Italia ha ancora molta strada da fare sul fronte della prevenzione e della diagnosi precoce. Quanto è importante la consapevolezza del paziente? È fondamentale. È fondamentale. Il problema è che dato 100 il Fondo Sanitario Nazionale abbiamo sempre destinato una minima parte ai temi della prevenzione e della promozione della salute. Allora, quando probabilmente avevamo condizioni epidemiologiche diverse, forse questo poteva anche andare bene. Adesso non possiamo più permettercelo. Considerando che abbiamo una prospettiva di 85 anni circa per le donne di vita e 80 anni per gli uomini, tutti gli studi ci dicono che dai 16 ai 20 anni ultimi noi li passiamo non in buona salute. Il che vuol dire da 60 anni per gli uomini a 65 per le donne e questo non va bene perché lavorare prima sugli stili di vita e sull'acquisizione e l'interiorizzazione di stili di vita ci consente poi di risparmiare a valle vite umane piuttosto che costi sanitari, piuttosto che tutto quello che ne deriva in termini di disabilità e anche di costi sociali. E quindi abbiamo bisogno di recuperare questa parte fondamentale che è una gamba del nostro sistema sanitario nazionale. Perché prevenire meglio che curare? L'ho detto prima perché evitiamo ricoveri, evitiamo costi sanitari per farmaci piuttosto che per presidi, piuttosto che per ausili, evitiamo costi sociali perché poi come dire di fronte a una paziente fragile, cronico, disabile, le ricadute sono in primis sulla famiglia, sull'entourage familiare quindi sono stati messi anche in evidenza degli studi importanti anche da Censi insomma su quanto impatta sulle famiglie gestire la cronicità. E quindi insomma se sommiamo i costi sociali con i costi sanitari, con i costi anche individuali di ognuno di noi, beh, probabilmente riusciremo anche a lavorare molto meglio sulla prevenzione. Grazie. Grazie. Grazie.